Ok raga, gara moto 2 finita Mamma mia Arbolino può perdere un po' di punti Perde un po' di punti su Acosta Cioè li perde sicuro perché non penso che la penalità di Acosta Arriva Però ragazzi comunque Sta penalità di Acosta è proprio rubata Detto il King Helmet sarà furioso Però comunque Sta davanti Arbolino Ha fatto una gara fantastica pure Lui ci ha provato Vediamo se arriva terzo Vabbè poi che altro è successo Diciamo Dixon Dixon fantastico Mi sembra che non aveva mai vinto la gara Davanti a Lopez No Lopez probabilmente arriverà terzo Era Augura scusate Gara anche questa di altissimo livello Secondo me come quella della Moto3 Siamo stati tutti molto bravi Poi chi altro L'italiano Vietti Non ho visto bene Che cosa Poteva fare Se l'ha fatto o no Vabbè Se no perdono la penalità E vabbè Detto il King Helmet si arrabbirà molto Però Andate così Ciao ragazzi